Se sei per me, questo non serve Gesù Il prossimo pezzo è un pezzo speciale, un pezzo particolare Innanzitutto è un pezzo che sicuramente riconoscerete, avrete sentito Vieni qua Eva, è una piccola offerta Eh non voglio che mi die, la metto con il telefonino che lo faccio col tuo, ti piace? Ti piace questa qui, è bella così, scusate, mi pazienza, scusate Ti metti in me... Guarda un po', guarda un po', guarda un po', guarda un po', guarda un po' Indica con la dito qualcosa Guarda un po' Guarda un po', guarda un po' Guarda un po', guarda un po' 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 appunto belli, scusa belli, belli, se ne compro uno, vuoi? se ne compro uno, per Natale graa 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 ben gra County bon Grazie. 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 Vi ho dato un altro comune, il Bar de Chico. Questa è la regione che mi piace più, è il Bar de Chico. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Belli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti